Marco Ferri Chi è Marco Ferri dell'Isola dei Famosi? Il figlio di Riccardo Ferri Isola dei Famosi, Marco Ferri, età, altezza, lavoro, chi è il padre, fidanzata. Marco Ferri è il nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi. 29 anni, è nato il 28 aprile 1988, alto 190 cm, è un modello e ex corteggiatore di uomini e donne. Ma è soprattutto un figlio di, il padre Riccardo Ferri, ex calciatore di Inter e Sampdoria ma anche difensore della nazionale italiana. Oggi Ferri Senior lavora come allenatore e dirigente sportivo, in particolare si occupa dell'area tecnica di Vicenza. Il figlio Marco si è fatto strada nel mondo dello spettacolo posando come modello, nel 2008 è poi approdato alla corte di Maria De Filippi come corteggiatore di Natalia Angelini e Francesca Mari. Quell'esperienza, però, è durata molto poco e ha deluso parecchio il diretto interessato. Marco Ferri è molto conosciuto in Sud America per la sua relazione con Ailen Miller. Ferri è molto conosciuto in Sud America, e in particolare in Cile, per la sua lunga relazione con la modella e attrice argentina Ailen Miller. I due hanno partecipato insieme a diversi reality show della TV Cilena ma si sono separati dopo la fine del grande fratello Vip, al quale ha partecipato Marco. I due avevano anche intrapreso una convivenza e parlavano di matrimonio e figli ma improvvisamente hanno deciso di lasciarsi. Prima di conoscere Ailen, Marco ha avuto altre relazioni in Italia con diverse modelle ma attualmente è single. È in cerca però del grande amore, quello con il quale costruire finalmente una famiglia. Tra queste non si può non menzionare quella con Lisandra Silva, la cubana che qualche tempo fa ha ricoperto il ruolo di madre natura a Ciao Darwin. Marco Ferri è single, non è più fidanzato con la corteggiatrice spagnola. Tra le passioni di Ferri ci sono lo sport e la musica. Si definisce un ragazzo divertente, testardo e orgoglioso. In passato ha lavorato con Lele Mora, è amico di un altro volto noto di uomini e donne, lextronista Christian Gallella oggi felicemente sposato con Tara Gabrieletto. Grazie a tutti!